Un calvario iniziato nel 2018, Federica Fascina, 45enne, padovana, ha smesso ormai di contare i mesi, gli anni e anche le denunce fatte nei confronti di quel vicino di casa che ha reso la sua vita un inferno, con le sue minacci, i suoi insulti, arrivando anche quasi ad investirla mentre passeggiava con la mamma. Ora il suo stalker, dopo 22 denunce, è stato arrestato. Federica sta ricominciando a vivere, ma ha deciso di raccontare, mettendo nero su bianco, la sua storia. Ero ancora forte, ero ancora la persona che ero prima, quindi quella che si poteva difendere, pensavo che fossero solo piccoli screzzi magari di vicinato, se così vogliamo chiamarli. Da lì, piano piano, con il passare dei giorni, delle settimane, dei mesi, si sono trasformati in un incubo, in una vita, come dico io, che non è vita. In un caso, il vicino l'ha anche minacciata di morte, mostrando una corte dei sacchi neri e poi insulti e gesti volgari. I motivi di tale odio non sono mai stati resi noti. Federica però ha raccolto il suo dolore in un libro e ha iniziato a scrivere nel 2019 di Getto. Io ho iniziato a scrivere, questa è una cosa che mi piace dirla, nel momento più buio, quando io ero proprio rinchiusa in casa, dovevo cercare di inventarmi qualcosa per far passare il tempo, perché per me un minuto era come un'ora, un'ora era come un giorno e un giorno era come un mese. Cioè il mio tempo non era allo stesso tempo delle persone normali, era come un macigno che dovevo trascinarmi dietro. Mi sono messa a scrivere nelle classiche note del telefono. Con il passare del tempo ho visto che questo scrivere comunque mi prendeva, era come uno scaricare anche, come se fosse un po' il mio diario personale. Dopodiché ho preso questa decisione perché sentivo sempre di più casi, casi, casi. I proventi delle copie vendute vanno in beneficenza allo Iov. Federica ha anche messo a disposizione la sua email e invita le donne a parlare e denunciare. Bisogna stare attenti. Se una cosa sembra un po' strana, se siamo un po' troppo guardate, magari di tenerlo annotato, di farlo presente a qualcuno. E non per puntare subito il dito, perché io ci tengo a sottolineare che non faccio di tutto un erbo o un fascio. Però di stare un po' attente, dirlo a qualcuno, oppure quando c'è questa persona che gira intorno, di non essere da sole.